Dal bullismo all'uso di sostanze stupefacenti, dai reati contro il patrimonio alle infrazioni al codice della strada, sino ai reati economici. Sono stati questi i temi al centro di un incontro tra le forze dell'ordine, gli studenti delle quarta e quinta e degli istituti superiori cittadini, a Riostro, Itti, Bachelet, un incontro dal titolo Costituzione e legalità quotidiana organizzato in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Sono ragazzi grandi, di quarta e di quinta superiore, si avviano davvero alla maggior età e diventeranno cittadini attivi tra pochissimo. Quindi un po' l'augurio di un anno sereno, di conservare l'entusiasmo per quello che fanno, un po' un richiamo davvero alla loro identità personale, alla loro capacità critica di esercizio nelle scelte della vita quotidiana. La scuola è soprattutto maestra di vita attraverso il rispetto della legalità, per cui per me è stato importante ricordarlo attraverso la carta costituzionale, attraverso le parole di un nostro padre costituente, ricordando che la scuola è sì aperta a tutti, ma la scuola è aperta a tutti nel rispetto dei principi e dei valori di legalità e costituzionalità. Un momento per fare il punto sui diversi aspetti della Costituzione in rapporto alle azioni di legalità che quotidianamente si è chiamati a compiere e rispettare, come ad esempio il progetto Scuole Sicure, che oltre a contrastare lo spaccio nelle scuole con il rafforzamento dei controlli, ne mette in evidenza la prevenzione con un protocollo firmato in prefettura alcuni giorni fa da tutti gli attori coinvolti. Le scuole anzitutto con cui concordiamo programmi, l'università ma anche le istituzioni a cui è rimesso il compito dell'affermazione del principio della sicurezza, le forze di polizia, l'ordine degli avvocati. Abbiamo allargato da quest'anno la platea, non solo all'amministrazione del comune capoluogo, ma ad una serie di altre amministrazioni del territorio e questo è fondamentale. Io ho detto ai ragazzi che sono sicura che sanno scegliere e che quindi riflettano bene su quello che fanno. Cioè l'idea che un ragazzo non eserciti il proprio libero arbitrio mentre ragiona o mentre agisce, non mi va. Io ho molta fiducia nei nostri giovani, ho lavorato davvero vent'anni a scuola, quindi credo sia una fiducia motivata e pertanto sì, il richiamo forte è quello davvero alla capacità di pensare con la propria testa e di esercitare scelte consapevoli.